che vittorio sgarbi non avesse preso benissimo la sconfitta elettorale nel collegio di acerra è stato stracciato dal concorrente del movimento 5 stelle luigi di maio siera già capito dal primo collegamento a caldo con porta a porta quando si è rivolto in modo non molto elegante agli elettori della città in questione ma il nervosismo di sgarbi che lo attanaglia anche in periodi più tranquilli non si è stemperato con il passare delle ore ed è uscito fuori prepotentemente durante il collegamento con dalla vostra parte programma di rete 4 condotto da maurizio belpietro e veronica gentili la giornalista veronica gentili ha interrotto sgarbi durante una risposta e si è scatenato il bottiferio il critico ha perso le staffe ha mandato tutti a quel paese ed ha abbandonato il collegamento dall'altra parte però ha trovato un altrettanto battagliera gentili che non gliene ha fatta passare una frecciate fra giornalisti a lei 7 piroso contro mentana tornato in collegamento sgarbi si è rivolto a belpietro affermando quella non può capire non ha cervello e la gentili gli ha risposto a tono quella lo dice a sua sorella e ha ribadito e di fronte al nuovo torrente di insulti che l'ha investita incapace e ignorante alcuni degli epitetti ripetibili lo ha zittito senza mezzi termini i fini a sgarbi viene abbassato l'audio e la gentili ha concluso la parentesi invitandolo a fare così con quelli con cui lo può fare con meno veronica gentili già vista la gabbia sulla 7 è una giornalista blogger ed attrice romana senz'altro non è semplice avere l'ultima parola con lei guarda la fotogallery